in seguita a una buona, ottima decisione del Presidente Mattarella. Quindi facendo l'analisi dei temi abbiamo dato alcuni suggerimenti sul recovery, sulla giustizia, sulla sanità, la vaccinazione, il mondo femminile, eccetera, senza porre condizioni di sorta, ma cercando di essere utili, dando suggerimenti anche a partire da quella che è stata la nostra esperienza parlamentare alla Camera e al Senato in questi ultimi tre anni.